Andiamo a prendere i tortelli e schiaccia, vediamo. C'è fila. Per certezze non ci sono. Meglio in grande supermercato prendere, ma... Ok, pruni, ci reggi rimassa. Ho cercato la kiwi senza guanto, mi sgridate. Hai ragione lei, 100%, però se io avrei un negozio, per esempio, il mio negozio, io chiuderei occhio e se uno tocca un kiwi senza guanto, per non perdere il cliente. Ora mi sono arrabbiata e offesa. Hai ragione lei, 100%, però non sgridare che ci vuole guanto, lo so che ci vuole guanto. Ora kiwi non prendo, volevo prendere 4 kiwi e non prendo. Ok, sempre nervosa questa commessa. È molto brava, ma nervosa. Amici, ho preso soltanto 10 tortelli e basta. Come se mi sono sgridato, mi sono offesa, perché poteva chiudere occhio, amici, poteva per non perdere il cliente. Kiwi non ho preso per principio, amici, per principio. Sempre arrabbiata, sempre seria, lavora bene, mamma mia, che energia, ce l'ha l'acqua, commessa, diciamo, molto esperta, però sempre questa faccia, sempre questo intento. è così. Un giorno ho visto che fuori era nuvolioso, nuvolioso, bello, fresco. Io ho entrato e dicevo che bello. No, abbiamo parlato di tempo. Dico io sono contenta molto che oggi... Oh, io no, è fatta faccia. Diciamo scontenta, sempre scontenta. Perché lei non piace quando è nuvolioso, non lo so. Ma si respirava, non è aria di questa sabbiosa che viene da Africa. Si stava bene. C'è gente che è sempre arrabbiata, sempre scontenta. Il povero marito siciliano. È così. Venuta di nuovo e voglio fare... Buonasera, buonasera. Eccomi qua. Progetto TV. Questo è troppo chiaro. No, grigio. Che poi, diciamo, di colorato abbiamo il fondo della vetrina. Questo qua. E i mob di quelli là. Il resto è questo. Sì. Quindi questo è il dietro e questo è quello che viene fuori. Ora vediamo. Farò anche foto così vedo quale è meglio. Allora uno devo... Questo sì e devo scegliere uno di questi. Sì. Allora questo qua, vero? Meglio scegliere questo e questo. Sì, sì. Guarda, guarda, un colore da mettere come fondo. Come fondo, sì. Qualcosa torta così. Che si deve somigliare con il pavamento o no? Ma proprio... No, deve dare più gradazione con quello. Questa è troppo rosa. Questa è troppo rosa. Quindi dopo se la troppo rosa... Ho uscita, ho fatto ordinato questo mobile che mi piace tantissimo. Sono ancora qui, in questo negozio. E fra un curante giorni sarà pronto. Mi piace tutto qui. Bellissima giornata, amici. Sono molto emozionata. Già hanno portato la rete tv tutta questa qua. Guardate, io ho già qui preparato i mobili miei, vecchi, intorno. E' liberato tutto spazio. Ecco qua. Arrivati, contenti che il primo piano ascensore c'è. Poi due macchine, mamma mia. C'è un'altra. Speriamo bene. Devono finire. Arrivati i due e trenta. Preciso, amici. Preciso. Tanti uomini arrivati. Wow, che bello. Sono venute cinque persone, due camion per una cosa piccola così, però ci vuole, amici. Ci vuole, è tutto imballato. Noi guardiamo un film e ci vuole tanta, tanta pazienza. Andiamo a vedere. Ancora è pioggia. Un po' più fresco. Pioggia è venuta. Bene. Sì, fate sul misura per bene come deve essere. 96, 96. Sì, qui che c'è scritto. 96, deve essere uguale a questo. Questo non lo so. Sì, il soldo di questo, deve essere uguale al soldo di questo. Sì, sì. Quindi 96. 96, sì. Sì. No, no, ho l'attacchi di questo mobile. Sì, no, no, è. Anche tre, la è diverso. Ma te, te, il trasformatore l'hai già visto? Quindi quando quelli di che sono ritmi? Il trasformatore, la luce dietro il penno. Si muove. La portava solo la limitazione. No, quindi è solo quello dritto lungo. Sì, ok, no, così io lo mettermi dietro il mobile. Quindi va bene, il pepe è il bai scorso. Ciao. Sì, ciao. Il pepe è il bai scorso. Porta un cazzo di mano. Sì. Poi la metto. Ah, ciao. Non ci vedo. Ciao. Dando un po'. Sì, ti prendi? Grazie a tutti, grazie a tutti. Arrettamento a casa mia. Andati via, andati via sono tanto 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 felice perché abbiamo messo tutto, abbiamo lavorato quante ore, una, due, tre ore, tre ore di questo montaggio, portato tutto sporco portato via, ecco macchina ancora c'è, camioncino, tutta roba vedete com'è, mi ha dato un buon consiglio perché qui uno di questi mi consigliato fare mobili con alluminio, quando si parla mobili di alluminio io sempre pensavo questo qua alluminio brutto, cattivo, no, alluminio bianco c'è, come le mie finestre amici, questo alluminio, vedete, ecco qua, ora vi faccio vedere, ecco questo mio alluminio, questo, anche queste mie finestre proprio di alluminio che si aprono tutto tutto tutto, poi vi faccio vedere una volta come mia porta finestre, questo non si apre perché qui c'è, vedete c'è un pezzo di quarzo questo qua, e belle idee mi hanno dato, wow, che ora voglio arredare subito, ha detto mettetemi subito questo mio vaso, mettete subito, voglio vedere le belle immagini amici, così, wow, che è successo qui, mannaggia, uoi, uscito fuori, già ora ha paura di rompere, è uscito chiodo fuori, ma perché è uscito fuori, uno sì, altro, attenzione, ora devo, dobbiamo guardare che è successo qui, amici, comunque ora anche questi, questo non è problema, mettiamo qui tutto indietro perché questo non si deve vedere assolutamente no, deve essere così, c'è anche partita ucraina e belgio oggi, io sono ucraina, amici, ecco qua, e oggi faccio il tifo per ucraina e sono molto molto felice e speriamo che non fanno almeno brutta figura ucraini, perché ragazzi che meritano, meritano vincere, meritano proprio. ecco qua, apriamo tutto e vi faccio vedere tutto, ecco qua, quattro pezzi si aprono in questo modo, così, con il tasto temp si va a aumentare o diminuire la temperatura impostata, ora l'ho messa a 23, con il tasto fan si regola la velocità del ventilatore, ora sei a una tacchettina, sì, due, tre, poi quattro, cinque, automatico, notturno, ora poi ti spiego il notturno che cosa vuol dire, poi io sarei su due, tre, e poi partito. Allora ora ho messo a 23 gradi, se senti che è caldo l'abbassi con tempo, se ha invece freddo lo alzi con il notturno, dove c'è l'alberello con la luna, vuol dire che lui, che siamo a notturno apposta, te lo imposta a 25 gradi, 24 quello che è, lui te lo alza in automatico di due gradi e la macchina è silenziosissima, perché è proprio per la notte per dormire, magari uno lo imposta a 25, poi ridormi, sta fermo, quindi il freddo per l'allinoia, e allora lui da solo capisce che si sente, ora si che bella freschezza. Anche per l'altro? Andiamo di quell'altro, sì.